o era da un po che non facevo una una diretta su sull'istagram instagram mi sta dicendo stiamo informando i tuoi follower che ha avviato una diretta io poi voglio farmi seguire per forza in diretta e che era la roba più veloce per poi salvare il video devo dire la verità perché volevo fare una puntata del podcast anche oggi mi ho detto non tiro fuori tutto l'ambaradang la faccio in diretta in questo modo perché perché siamo quasi due due anni dall'inizio di tutto sto sfacelo che ha distrutto per molti quanto meno questo questo nostro mondo e io non ho mai detto più di due parole su questa cosa molti che mi conoscono sanno come la pensano detto una roba tipo tipo alberto toma chi mi conosce lo sa fa notizia non fa notizia non so se mi ricorda te vai dire gol perché non mi interessa proprio far sapere cioè non che mi interessa far sapere anzi penso che mamma se cambia la luce penso che in questo momento storico più siano le voci che vanno in un certo senso meglio sia per tutti perché questo perché siamo arrivati a una consapevolezza mi ho detto per due anni i dati di qua dimostrano che i dati di là dimostrano che i dati dati ormai abbiamo ho capito perché parlo per me stesso quindi posso anche sbagliarmi ho capito che i dati sono farlo cioè tu li puoi prendere li puoi girare anche Umberto Eco ci diceva una roba del genere se tu parli di cose antiche di numeri tu li puoi girare come vuoi nel pendolo di Foucault se non ricordo male e insomma con quindi quei dati ci puoi fare un po di tutto 40 per cento 80 per cento no ma perché lo prendi dall'insieme bla 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 tutto quello che rimane secondo me è in questo momento un insegnamento che poi lo vuoi mettere in pratica non vuoi metterlo in pratica io sento di aver capito alcune cose sento di aver accelerato una sorta di consapevolezza poi alla fine e anche di determinazione il mondo di quando sento dire vorrei tornare al mondo di prima io sono spero per te che ritorni il tuo mondo di prima ma il mondo di prima come lo vedevo io mi faceva abbastanza schifo già prima cioè non voglio tornare al mondo di prima non voglio neanche questo mondo qua perché perché lo vediamo è uno sfacelo è un mondo distopico è già oltre Orwell Orwell forse se vedesse questa cosa no ma minchia ma che macello avete fatto cioè siamo un mondo oltre un mondo dove tutti parlano io stesso mi immagino di uscire sui telefoni delle delle persone di questa questa brutta faccia cosa ci avrà da dire ci avrà da dire magari due o tre stronzate ci avrà da dire non lo so ma però lo fanno tutto è giusto sbagliato come usi i social io lo uso per creare un esempio l'ho detto sempre l'ho detto spesso nelle puntate dei podcast per me l'esempio quello è quello che conta e quelli che seguo sono persone che normalmente portano un esempio che per me sembra positivo esempio è vivere un certo modo quando dico quel mondo di prima mi faceva schifo perché era un mondo basato completamente sul sull'economia cioè io sto sto sentendo dobbiamo salvare il pil dobbiamo salvare il pil ma le persone non il pil ma salva le persone poi pensiamo al pil ok come quelli che si arrabbiano per quelli che hanno il reddito di cittadinanza che non fanno niente quelli che hanno il reddito di cittadinanza si arrabbiano con quelli perché gli vogliono togliere l'ordine di cittadinanza è un gran casino cioè c'è anche l'idea di chi magari non vuole lavorare e badate bene per me il lavoro non rende liberi non ci ho mai creduto di fatti l'hanno messo sopra a un cancello non un gran che bello ok già ci dovrebbe far capire delle cose quello che ho capito in questi in questi due anni è che effettivamente l'universo ci parla ci dà dei segni ci fa capire delle cose è criptico spesso e chi dice l'ho sentito dire da uno sciamano l'universo non ha il senso dell'umorismo a me sembra che ce l'abbia ce l'abbia come o quantomeno voglio sperarlo perché se devo pensare a tutta una vita basata su questa cosa triste ma tenetevelo voi vivo a cazzo di cane è molto meglio secondo me devo mettere parenta advisor parenta advisor per questa puntata poi la faccio diventare anche podcast forse non lo so dipende se mi viene bene e insomma in questi due anni ne abbiamo sentite di cotto e di codo ma l'universo è quello che ci dà veramente meno quello che ho provato io poi dei segni tangibili a quanti faceva schifo il mondo di prima alzi la mano a chi faceva schifo il mondo di prima io alzo perché perché è basato su produrre 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 la crescita la crescita c'è la crescita no questo grande inganno della crescita che deve essere solo produttiva non dico che la crescita sia sbagliata attenzione penso che a livello economico ci voglia una decrescita quello sicuramente sì e vi consiglio il libro della decrescita felice perché secondo me è molto illuminante la crescita deve essere personale noi come sempre sostenuto negli ultimi tempi ho capito che arriviamo noi siamo da un altro mondo paparapapà siamo lì che facciamo festa con gli amici sempre fatemelo immaginare così non me ne frega delle 12 vergini 75 vergini cosa eccetera credo che dall'altra parte non abbiamo neanche più impulsi sessuali credo non lo so però siamo a dire a un certo punto diciamo facciamo un gioco facciamo un gioco giochiamo a questo videogioco della terra ci mettiamo questi caschi sto inventando ovviamente mettiamo questi caschi facciamo credere e creiamo questi avatar in questo mondo nel metaverso noi qua siamo il metamerso di quella roba che che c'è dall'altra parte e quindi stiamo stiamo giocando perché dobbiamo superare dei livelli probabilmente imparare qualcosa tornare alla alla madre cioè la nostra ma siamo fatti di 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 atomi quindi di pixel no di qui e quindi dobbiamo tornare alla 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 nostra madre che è la terra poi alla fine della fiera e un progetto in mente proprio su questo proprio perché non penso che la vita sia mettersi su dei binari non ti metti su dei binari i binari te li vogliono imporre ma tu puoi dire di no io per tutta una vita ho pensato sono sbagliato minchia sono sbagliato sono sempre stato anche quando ero piccolo poi crescendo sempre quello un pochino diverso cioè 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 certo penso pensa se fosse stato come quelli che che rompevano le palle compagnia che ma pensa a te mamma madonna sì mo andata bene moments di lusso mi ringrazio l'universo di essere me stesso perché quella roba lì non la voglia cioè metto tutte le cose sul piatto dico che vita di merda che avrei avuto, santo cielo, lasciamo perdere questa cosa che veramente vita di merda che avrei avuto, e invece no, una vita molto, una famiglia, condivido i valori con i miei familiari, con mia moglie in primis, con mia figlia che ha 4 anni, che già mi dice delle cose che dico, sei più illuminata di quei cosi che dovrebbero governarci, che ormai sono, una volta uno mi ha detto, quello che arriverà dopo sarà sempre peggio di quello che arrivava prima, una volta era un Berlusconi, sembrava il male assoluto, poi è arrivato Renzi, ma madonna, era schifo, poi uno dice, i 5 stelle spaccheranno tutto, che casino che hanno piantato, si hanno spaccato tutto, hanno spaccato i coglioni probabilmente, sbagliando tutto, e poi c'è sempre questo coso, la sinistra, la sinistra, la sinistra, adesso sono delle barzellette, vedo ancora dei miei coetanei che scrivono di tipo D'Alema, cazzo se ne frega ancora di quelle robe lì, ma ragazzi, ma veramente, ma veramente, siete bloccati in un mondo vecchio, sta accelerando tutto e voi mi parlate di quello, comunque fatto sta che, ritornando alla cosa principale, l'universo dà dei segnali, dà dei segnali e noi dobbiamo saperli accogliere e sapere anche, sempre dalla mia visione, ovviamente, saperli accogliere e sapere anche utilizzarli, a un certo punto dici no, cioè ci sono delle cose che io dico no, tu mi dici una cosa, mi imponi una cosa e dico no, non impongo, non me ne frega niente di quello che mi imponi, farò quello che dico io, che penso sia giusto per me, ovviamente, non è perché io ho cominciato un percorso anni fa, nel 2014, e screditarlo tutto perché uno mi dice di cosa, cosa? Ma siete veramente scemi, io sono felice senza di voi e potete andare a togliere cose, tanto sta per crollare il castello e l'importante è rimanere centrati, sempre, rimanere centrati, centrati, fermi, come dice anche Giovagnoli, non so se qualcuno lo segue, a me piace assai, rimanere fermi e centrati, e in questi due anni ho capito un sacco di cose, ho capito che tante volte non mi interessa il parere degli altri, ho capito che ad esempio quando comunico, non ho mai pubblicato qualcosa, so che ci sono molte persone che tutti i giorni pubblicano contro, eccetera, e fanno bene anche, mi metto spesso in discussione, non so se quello che sto facendo è giusto o sbagliato, non ho la presunzione di dire come vivo io è giusto, come vivi tu è sbagliato, io dico che voglio vivere così e non ci sono cazzi che mi fermano, cioè nel senso sto vedendo che sta andando tutto bene, sono altri che rompono le scatole. Per esempio, quando pubblico qualcosa un po' pruriginoso su Facebook, io tolgo i commenti, ma sapete, ma non perché, perché non mi interessa creare la discussione, cioè se io pubblico una cosa perché io penso quello, adesso siamo abitati che puoi commentare qualsiasi cosa, anche sul mio sito puoi commentare qualsiasi cosa, non sul sito però, commenti sui social, che sono nei pollai, commenti da altre parti, io tolgo, ma che non mi interessa, pubblico, già cerco di pubblicare solo il bello, brutto non lo voglio pubblicare, non lo sono, mi piango addosso, certo che non è un periodo facile, si stanno nel mio lavoro, se prendi certe decisioni, ne paghi sicuramente le conseguenze che poi possono trasformarsi in qualcosa di bellissimo, anzi sono sicuro si trasformeranno in qualcosa di bellissimo, perché un'altra cosa che ho imparato in questi due anni, è guardate, ho visto una puntata ieri, The Witcher, che dice a Cirilla, cos'è una delle cose che ha imparato anche lui, adesso non mi ricordo bene perché sto mezzo sonnecchiando, però gli dice è combattere contro le paure, affrontarle, l'ho fatto, molti l'hanno fatto, quelli che l'hanno fatto hanno accelerato, perché se penso veramente che la vita è stare qui, vivere, mangiare, bere, andare a fare cena, sabato sera con gli amici con antipasto, primo c'è cosa, ho pagato 10 euro, ma non me ne frega un cazzo di quella roba lì, sono completamente fuori da quel discorso lì, penso che c'è di più, c'è provare delle sensazioni, penso che sia provare mondi nuovi, penso che sia crescere dei figli per chi vuole, per chi non vuole non crescere i figli, penso anche non sia giudicare gli altri, non posso giudicare gli altri, perché io non so cosa c'è dietro, quando io dico quel tizio lì ha fatto quella roba lì, ma che ne so del suo progresso, non mi interessa, per me tutte le decisioni che prendono gli altri sono giuste, e rimane il fatto che la tua libertà finisce dove inizia la mia, siccome me l'hanno detto tanto, sì ma c'è anche la mia, di libertà non c'è solo quella degli altri, e la mia è la più importante, comunque dico la mia come quella di ognuno di noi, però è quella importante, e tu non mi imponi niente, perché ti ride in faccia, ma pensate quando leggevo stamattina Franco Del Moro, che ha fatto una, Franco Del Moro mi piace un sacco, ha una rivista che si chiama El Insela, ve la consiglio, e pensate al giudizio divino di questi mentecati che fanno decreti, pensate alla giustizia divina, noi saremo come Dante, li vediamo lì così, quando passeremo, hanno perso il gioco, oppure peggio, animicamente si sono prestati a fare la parte del cattivo, perché qualcuno, c'è un gioco, un gioco mi ricordo giocato qualche anno fa con il mio amico Aldo, c'è un gioco che si chiama L'Oscuro Signore, c'è una persona che si chiama L'Oscuro Signore, c'è uno dei partecipanti, chi deve far fare delle prove agli altri, se non ci fosse il cattivo, tu non fai anche le prove, è una bella metafora, secondo me, comunque questo e altre cose ho imparato veramente, potrei fare un podcast adesso che, adesso c'è tanto da fare, perché c'è tanto da ricostruire e da partire, ci sono nuovi progetti, personalmente sto pensando a nuovi progetti che non c'entrano niente con il digitale, in realtà, continuano a fare il digitale affinché non mi chiuderanno la partita IVA, non lo so, verrà qualche generale a casa a prendere caffè con me, io c'ho sempre la tazzina pronta comunque, in più intesa si dicono Badola, qualcuno, insomma, ci sono nuovi progetti, nuove cose, nuove importanti novità a livello personale, c'è tanto lavoro da fare, tanto da non ricostruire, da costruire, cose che prima non c'erano, penso al mio stile di vita, io sono vegetariano tendente al veganesimo, molto tendente al veganesimo, per esempio se visto che, che ne so, questa scelta di vita fa sì che ti ammali molto meno, per dire, se ci tieni al corpo, faccia cosa vuole. Penso alla natura, penso all'ecologia, adesso l'altro giorno, o stamattina, mi ricordo più quando era, leggevo del nucleare verde, il nucleare verde, il nucleare verde, questa è una cosa magnifica, quando abbiamo il sole, le cose, cioè avremmo veramente tutti i modi per, il nucleare verde, il nucleare verde, eh ma perché poi se manca l'energia produci di meno, eh vabbè, pazienza, è un po' come tenere aperte quelle aziende che inquinano tanto i bambini muovono, i figli muovono, però tanto c'è il lavoro, per me è un'altra stronzata, quella lì, eh ma poi chiudono, chiudono i negozi, le cose non chiudono, si ritrasforma, nulla, tutto, su tutto si trasforma, lo sappiamo già benissimo, uno stile forse un po' più hippie, un po' più hipster, un po' più, chiamatelo come diametrate, le categorie, c'è chi piace tanto fare categorie, chiamatele come vi pare, io direi che vado a fare pranzo, eh perché ho un buon pranzo vegano da andare a consumare, potrei fare anche delle cose vegane perché in questo periodo ho imparato a fare il formaggio vegano, ho imparato a fare i nuggets di cavolfiori, ho imparato a fare festa, sì perché ho fatto festa, tanta, e ho imparato a non avere paura, ho imparato a sorridere, adesso sorrido perché mi sento veramente libero, anche se ci sono dei giorni che dici, porca miseria, è un assedio, un assedio continuo, e passerà, ma passerà quando passerà qua, mi libererò anche là, ti saluto, vado a mangiare, ciao a tutti, buona domenica, non so se riuscirò a tramutare questo in podcast, ma vedremo, e per tutto il resto, la prossima settimana ricomincia cronache cibernetiche con tutta la questione di, insomma, del mio lavoro, e We Are The Net è più una visione, la visione di Fabio, della vita. Buona giornata, ciao ciao.